La prossima canzone è tratta dal ultimo disco che ho fatto, un disco che ha avuto una genesi un po' particolare perché è nato dopo un libro che ho scritto, che è uscito l'anno scorso per la casa editrice zona che si intitola Yuri, ed è la storia di un adolescente, un adolescente che viene trovato nudo con un libro in mano Yuri non sa da dove viene e non sa dove sta andando, Yuri non ha nessuna memoria se non una che è la storia contenuta nel suo libro che porta sempre con sé e questa è la canzone dedicata a questo giovane smarrito nel mondo GAMBE ESILI GAMBE ESILI che traballano sul mondo hai cucito sulla pelle tasche pieni di niente e solo sassi un po' di terra come dopo una caduta e solo sassi un po' di terra